un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini tra questi lunghi vialetti tra questi cipressi dove padre pio spesso si ritagliava anche un momento di preghiera di meditazione anche di colloquio con i suoi figli spirituali proprio accanto alle mura del convento oggi vogliamo raccontarvi quello che accadeva nel 1915 quando padre pio scriveva a padre agostino il 25 di agosto dove faceva emergere che l'unica sua preoccupazione era crescere nella carità ecco su questo appunto padre pio si sofferma voi scrive comprenderete ogni vostro desiderio e suggerimento per me hanno forza di legge potete quindi stare sicuro che ciò che mi raccomandate sia in vostro riguardo che in riguardo al delle anime altrui nulla dimenticherò per quanto è in mia facoltà di sempre di tutto far continua memoria dinanzi a lui perché poi mostrarvi così preoccupato sul vostro spirito o non sapete voi che gesù è contento di voi e che molto siete caro al sudino in cuore nessuna preoccupazione su questo punto una cosa sola deve essere la vostra assiduo occupazione andare sempre innanzi nella santa carità e sebbene gesù si compiace di voi pure vuole che cresciate sempre in carità sia perfezionando la vostra anima sia col procurargli sempre nuove anime non che procurargli di renderle perfette quelle anime che già sono sue per sola grazia santificate allora poi un suggerimento da parte di padre pio al suo padre spirituale mi permetto poi di umilmente sottoporvi una mia un mio debolissimo suggerimento in tutto con molta riserbatezza e non vi nascondo anche con grande mio timore perché ho paura di sbagliare e scrive quello che io voglio dirvi sì è di stare molto accorto nella direzione di anime specie di diverso sesso e non dare loro a dividere di dare molta importanza in ciò che spetta fenomeni straordinari salvo quando si hanno prove chiarissime in mano con il confutarle costituirebbe quasi una specie di infideltà è vero che fino al presente di si fatte anime gesù ve ne ha fatte incontrare pochissime ma nell'avvenire gesù susciterà molte di tali anime che forse potrebbero anche alcune di queste imbattersi in voi perciò vegliate fortificatevi colorazione ed intanto vogliate perdonare alla mia spudoratezza